Allianamento perfetto anche se perde l'ala Piccolit che di fatto parte addirittura in terza fila parte piano anche Principe Saobia, la chiusura delle ali sono in due ad andare in lotta Passione Car che ha scavalcato quelli di dentro e Pipino Baggins che parte a mille e vuole andare a sollecitare la leader iniziale Prima curva, Pipino cerca a posto e lo steccato ma per il momento posto non c'è in vantaggio Passione Car, di fuori Pipino Baggins mentre viene subito in terza ruota Palmariva-Tekikova, 14-8 la frazione si va adesso per Pariglie perché probabilmente quello davanti non manda nessuno e Palmariva va al suo fianco, 400 in controllo, frazione in 15-4, leggera decelerazione nella scia del leader c'è Prestige Rock seguito in corda da Pato F terz'ultimo il favorito, Peter Pan-K.E che precede Piccolit e Principe Saovi intanto tiene andatura costante, 15-7 la frazione il leader ma c'è Palmariva-Tekikova che lo impegna all'esterno risale in terza ruota agli ultimi 800, Peter Pan-K.E seguito da Piccolit corsa bellissima, 14-6 di frazione, tutti raggruppati a 700 della fine a metà della curva delle scuderie tra il primo e l'ultimo non più di 30 metri 15-2 la frazione, Palmariva-Tekikova l'attacco deciso di Passione Car poi viene Peter Pan-K.E quindi di fuori Pipino Baggins che tiene in terza ruota Piccolit rimasto impagnato nel gruppo Pascal, 14-9 la frazione Peter Pan-K.E che va all'attacco di Palmariva-Tekikova che ha demolito l'iniziale battistrada poi ancora in lotta Piccolit e Pipino Baggins numero 9 Palmariva-Tekikova squalificato ha sbagliato Palmariva-Tekikova in vantaggio netto Peter Pan-K.E mentre di fuori finisce bene Principe Saovi assieme a Piccolit nel finale Peter Pan-K.E, Principe Saovi, Piccolit, Pipino Baggins su 1-14-8 la media del vincitore al chilometro Paolo Romanelli che stavolta vince anche da trainer della Stahl Team Newhoff con il favorito numericamente 8-5-6 per chiudere l'ultima 1-14-8 Paolo Romanelli che stavolta vince anche da